Ciao a tutti, sono Marco Filatori, direttore artistico del Teatro del Battito di Milano. Anche quest'anno, a dispetto di manovre, contributi di solidarietà, aumenti dell'IVA e bunga bunga vari, torna l'autunno. Ancora non l'hanno abolito come il falso in bilancio. E con l'autunno la campagna e iscrizioni della Scuola del Teatro del Battito di Milano. Se vuoi fare teatro seriamente e divertirti seriamente e recitare seriamente e andare in scena seriamente e soprattutto se non vuoi buttare soldi e tempo, seriamente, chiamaci. Ti spiegheremo come si svolgono i nostri corsi e se vorrai fisseremo un incontro in teatro che si chiama Caravaggio in via Borromini 5 a Milano, in zona Naviglie. Ah, dimenticavo, non cercare il sito perché qualcuno o qualcosa, forse un virus, forse la finanziaria, chissà, lo ha cancellato. Troverai solo una pagina provvisoria, ma su YouTube e Facebook, digitando Marco Filatori o Teatro del Battito, troverai tante cose che ci riguardano. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti.